Quali sono le caratteristiche della sindrome di Poland? È un'anomalia che non si sa ancora bene se sia di carattere genetico oppure dipende da altri fattori che non si conoscono ancora che dal punto di vista estetico ha evidenza di una mancanza totale del muscolo pettorale oppure fortemente parziale e della mammella evidente più ovviamente nel sesso femminile che nel maschile. Che tipo di problematiche provoca nel bambino e poi evidentemente anche nell'adulto? Nessuna particolare dal punto di vista di movimenti o di altri fattori se non quelli estetici perché nella zona della mammella dove mancano sia il muscolo pettorale sia la mammella ovviamente c'è un vuoto invece che avere una protuberanza. Non è sempre diagnosticabile in età infantile ma anche in età adulta? Dipende dai centri ovviamente se un bambino, adesso faccio per esempio Nacial Gaslini che è uno dei centri principali di conoscenza raccolta di dati per questa malattia, per questa malformazione chiamiamola più che malattia ovviamente viene sussicata immediatamente. In altri centri qualche volta abbiamo trovato che gli hanno detto fate anche ginnastica che è ancora peggio perché si va a ipertrofizzare cioè aumentare il volume del muscolo sano dall'altra parte per cui si evidenzia ancora di più la differenza di volume da una parte rispetto all'altra. Come si interviene oppure che cosa bisogna fare? E l'inni massima è solo un intervento chirurgico che viene fatto cioè ci sono delle protesi che servono solo a riempire laddove non possiamo riempire con la rotazione di cioè di trasposizione di muscoli o di cute da delle zone vicine. La ricerca sta andando avanti? La ricerca sta andando avanti anche questo grazie all'impegno dell'associazione e del gaslini particolarmente della biobanca nella quale vengono mandati dei campioni di tessuto e di sangue perché un giorno o l'altro possono essere utili per fare una diagnosi precoce e poter vedere qual è il motivo per cui questa malformazione avviene e poter intervenire il più precocemente possibile o quantomeno riuscire anche a evitarla in certi casi.